Si terrà sabato 12 febbraio, presso la Sala Convegni del Castello Baronale a Fondi, il terzo congresso multidisciplinare pontino dal titolo Passeggiando nella pediatria tra vecchio e nuovo. Interverranno molte voci autorevoli della medicina pontina, tra cui i dottori Giorgio Bracaglia e Loreto Bevilacqua. Tra gli argomenti trattati nelle giornate a studio, l'uso dei cortisonici, odontoiatria e dermatologia per il pediatra e l'avvocato in pediatria. Il tema del congresso, tra l'altro, era stato anche anticipato all'interno del nostro talk show di Gaetano Orticelli, andato in onda nei giorni scorsi con ospite il dottor Bembo. Questo congresso nasce da una collaborazione all'interno della società italiana di pediatria. La società italiana di pediatria è una società scientifica che è un po' il punto di riferimento della pediatria nazionale, che è divisa in rappresentatività regionali. Io ho l'onore di essere uno dei consiglieri regionali della Regione Lazio. In seno al nostro direttivo, nel tempo, abbiamo maturato l'idea di portare, soprattutto in periferia, proprio perché è forte la rappresentatività, in seno al direttivo da parte delle periferie della nostra regione, l'idea di portare in periferia la pediatria, la pediatria è importante. Quindi è nato questo sodalizio, soprattutto con il nostro presidente nazionale, il professore Alberto Gazio, che è il direttore del Dipartimento di Pediatria del Bambino Gesù, ordinario prima di Pavia, poi di Brescia, e che ha rappresentato un volano importante nello sviluppo per quanto riguarda le attività pediatriche dell'ospedale Bambino Gesù. Però abbiamo cercato anche di stabilire dei rapporti di collaborazione anche con altre strutture, non solo tipicamente romane, ma anche della Campania. Infatti ci sono anche professionisti che vengono per esempio dall'ospedale Santo Bono di Napoli, che è un altro fiore all'occhiello della pediatria nazionale. Questo perché l'obiettivo è quello di una sorta di interscambio tra la pediatria, diciamo, periferica, se così si può dire, cioè del territorio, che è radicata intimamente nella nostra struttura sociale. Infatti non a caso tra i moderatori risultano anche dei pediardi di famiglia del territorio e la pediatria ovviamente ospedaliera, che rappresenta comunque un primo filtro prima dell'accesso alle strutture di seconda e terzo livello. E contemporaneamente, dicevo, un trade union con le strutture che contano, quelle di terzo livello, quelle sia romane, ma non solo, perché abbiamo detto anche nel livello del napoletano. Questo perché? Per far sì che il messaggio che passi sia ai addetti e ai lavori, quindi nella fattispecie i professionisti del mondo ospedaliero e nonno, quindi medici, infermieri, eccetera, ma anche al territorio, che la realtà pediatrica, sia pediatria di famiglia che pediatria ospedaliera della nostra zona, non è una, come dire, sganciata e disgiunta dalle relazioni con i centri di riferimento. E quindi è un ottimo filtro, è una griglia a maglia, a volte anche stretta, per evitare che ci sia questa emorragia di bambini verso i centri che bypassano pensando di non trovare una professionalità adeguata, ma ripeto, sia nella pediatria del territorio, nella pediatria di famiglia che nella pediatria ospedaliera.